La Brexit non stravolgerà gli equilibri tra Irlanda e Regno Unito. Nell'incontro con il primo ministro irlandese giovedì, Juncker ha affermato che lui lavorerà per mantenere le frontiere permeabili nel nord dell'isola e garantire il processo di pace. Non vogliamo che ci siano confini rigidi tra Irlanda del nord e la Repubblica d'Irlanda. Vogliamo che l'accordo del Venerdì Santo non sia messo a rischio e vogliamo che le frontiere terrestri siano più aperte possibili. Perché non si tratta solo di sfide irlandesi, ma di sfide di tutta l'Europa. Quello tra l'Irlanda del nord e la Repubblica d'Irlanda, l'unico confine fisico tra il Regno Unito e il resto dell'Unione Europea, i controlli alle frontiere sono ridotti al minimo in virtù di un accordo tra i due paesi. Un ritorno ai controlli doganali potrebbe danneggiare gli scambi commerciali. Il primo ministro irlandese ha inoltre ribadito la volontà di rispettare i termini dell'accordo del Venerdì Santo alla conclusione dei negoziati sulla Brexit. La nostra priorità è che l'accordo del Venerdì Santo non venga danneggiato, visto che l'Europa ha sostenuto notevolmente il processo di pace. Dal 1995 ad oggi l'Unione Europea ha stanziato 1,3 miliardi di euro in programmi di pace per far fronte ai problemi causati dal conflitto. I programmi mirano a creare una società pacifica e stabile attraverso coesione sociale, sviluppo economico e distruzione. L'obiettivo è quello di preservare l'accordo di pace siglato nel 1998 a Belfast per porre fino al conflitto nel nord dell'isola tra i sostenitori della corona britannica e di nazionalisti che aspiravano al ricongiungimento con la Repubblica d'Irlanda.